Maria Concetta di Stefano di Torino Foto di Piazza Risorcimento di Torino Scattata il 24 marzo 2020 alle ore 5.30 del mattino Percorrerò i sentieri del passato Non avrò lacrime per quello che ho perduto Nell'ombra silenziosa di una sera Da questa vita forse un fiore nascerà Nell'ombra silenziosa di una sera La nostalgia più non mi appartendrà La nostalgia più non mi appartendrà